Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video! Lo so, sono due settimane che non ci vediamo, ma purtroppo, a parte un fine settimana particolarmente impegnativo, in realtà quando esce il sole io non riesco a stare in casa, quindi non riesco a stare al computer, non ho voglia di editare e di registrare perché ho solo voglia di stare fuori, quindi perdonatemi, ma essendoci stato un bel fine settimana, appunto quello appena passato, ho deciso di passarlo praticamente fuori al sole a leggere, però so che mi potete capire. Allora oggi, dato che siamo all'inizio di aprile, vi parlo delle mie letture del mese di marzo. A marzo ho letto quattro libri, quindi sono molto contenta perché anche questo mese sono riuscita a rispettare il mio buon proposito di leggere almeno quattro libri. E niente, inizio subito a parlarvene. I primi due libri che ho letto, li ho letti per il GDL di Staffetta Umanitaria. Se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio qui il link per andare a vedere quei video dove vi parlo di questo bellissimo progetto e dei GDL che ogni mese vengono organizzati. Quindi, appunto, il primo libro che ho letto è stato questo, Preghiera del mare di Khaled Oseini. Allora, questo in realtà non si può neppure definire graphic novel perché è semplicemente un libro illustrato per farvi capire. Ecco qua, vi faccio vedere alcuni dei disegni che sono veramente una cosa spettacolare. Oggi vi faccio vedere i primi così non vi rovino niente. Ecco qua, per esempio, sono veramente bellissimi. e come potete vedere le scritte, oh scusate ho sbagliato lato, le scritte sono veramente veramente poche. Allora, che cosa racconta questo libro? Il libro racconta in pratica una preghiera o comunque una lettera che un padre scrive al proprio figlio subito prima di imbarcarsi per il viaggio della speranza, quindi comunque il viaggio sui barconi che dovrebbero portarli a raggiungere un posto migliore dove poter avere una vita migliore. Nonostante il testo, come avrete visto, è veramente molto breve, a parte che il libro è proprio piccolino ma poi la parte scritta è veramente breve, in realtà con queste poche parole Kale Dossierini riesce a trasmettere perfettamente il messaggio che vuole mandare perché la parte scritta e la parte disegnata si amalgamano alla perfezione creando un'opera completa che grazie alle immagini e alle parole riesce a farci percepire benissimo che cosa stanno provando i protagonisti di questo libro. Viene spiegata qual era la vita del protagonista, di questo padre che parla prima della decisione di partire e che cosa le ha spinti a partire, ma soprattutto la sua grande preoccupazione per questo viaggio che per l'appunto, insomma, si sa è estremamente pericoloso. Mi è piaciuto perché è dal punto di vista di un padre e di solito i padri vengono dimenticati quasi, nella nostra realtà, insomma, si dà tanta importanza alle madri e quasi per niente, insomma, ai babbi, ecco come dico io. In questo caso il padre del bambino è l'unico narratore ed è il suo il punto di vista e capiamo quanto sia enorme, infinito e profondissimo l'amore che prova per suo figlio. Il messaggio principale è un genitore è colui che deve far sentire il figlio protetto. È possibile far sentire il proprio figlio protetto anche in mezzo alle onde, nel buio della notte, quando, insomma, ogni speranza è vana? Alla fine del libro c'è una dedica, che non vi dirò, che mi ha fatto piangere, cioè vi giuro è qualcosa che mi tocca profondamente, una dedica del genere mi ha veramente fatta commuovere e nonostante questo libro si legga veramente in pochi minuti, è uno di quelli che rimane impresso, attaccato alla mente, attaccato al cuore e dei quali non vi vorrete mai più separare, quindi super consigliato. Non posso dire altro perché non voglio rovinare la sorpresa che questo libro nasconde. Il secondo libro che ho letto per sempre il GDL di staffetta umanitaria è stato Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo di Cristina Cattaneo. Lei racconta questo, scrive questo libro, scusate, in prima persona, perché appunto racconta la sua esperienza personale. Lei è una professoressa di medicina legale a Milano, se non mi sbaglio, comunque è una donna che ha lavorato in prima persona nella creazione di un progetto e poi nella sua realizzazione che prevede l'identificazione delle vittime del Mediterraneo. Quindi questo libro praticamente ci racconta quello che è il suo lavoro, ovvero l'identificazione delle vittime. Ma che cos'è? Qual è la vera innovazione di questo libro? È il fatto che lei fa una riflessione molto importante. Molto spesso ci viene quasi automatico pensare che nessuno sia interessato a conoscere i nomi dei corpi che giacciono in fondo al mare, che sono stati recuperati o che comunque hanno affrontato questo viaggio senza purtroppo portarlo a termine. È abbastanza scontato che le persone, che insomma le squadre scientifiche si muovano nel momento in cui c'è un disastro aereo, in cui c'è uno tsunami, in cui c'è un uragano, insomma un evento che ha causato tante vittime e la priorità è quella di informare i parenti della morte di un loro caro. Ecco, questo, ma pensateci, perché è una cosa che è venuta in mente anche a me nonostante io lo sapete come la penso, ecco, sulle migrazioni sui migranti e così via. Quindi anche io stessa mi sono trovata a pensare, è vero, mi viene quasi automatico pensare che nessuno richieda quei corpi, che nessuno in realtà si possa informare su di loro che comunque se anche ci mettessimo al lavoro per tentare di dare un nome a queste vittime non arriveremmo da nessuna parte perché chissà i parenti dove sono e chissà come faremmo mai a raggiungerli. Ecco quindi che Cristina Cattaneo ci fa capire che stavamo sbagliando perché lei in prima persona si è messa all'interno di un progetto difficilissimo ha iniziato chiaramente nel piccolo, poi piano piano ha collaborato in quelli che sono stati i maggiori disastri nel Mediterraneo, quello addirittura mi pare nel 2017, correggetemi se sbaglio in cui sono morti quasi mille migranti. Quindi il suo è un lavoro estremamente difficile che prevede tanti passaggi e veramente il coinvolgimento di tante persone per raccogliere campioni di DNA, per analizzare le ossa, per analizzare i corpi, fare fotografie, registrare i possedimenti di cose che ogni migrante portava con sé e così via per riuscire in qualche modo a rintracciare le famiglie. Ecco che quindi lei svolgendo questo lavoro si rende conto che sì, è vero, non è possibile trovare una famiglia per tutti ma per alcuni di loro sì e questo basta, quindi grazie al passaparola, grazie alle ambasciate e così via si riesce a contattare i parenti delle vittime che possono finalmente mettere un nome su quella tomba. Addirittura delle volte queste cose hanno dei risvolti legali, per esempio pensate a un'adozione non si può far adottare un bambino se non c'è un certificato di morte dei genitori ecco quindi che tutto si muove nel verso giusto e alcune persone possono trovare la pace sapendo il destino del loro caro. A volte è meglio sapere che non ce l'ha fatta piuttosto che essere completamente ignari del destino che un nostro parente ha avuto. Quindi niente, qui Cristina Cattano racconta la parte tecnica, la parte più specifica, più scientifica ma anche la parte più umana, più straziante, più dolorosa e soprattutto elogia dall'inizio alla fine l'aiuto e il contributo soprattutto in Sicilia di tutti quegli enti che si sono adoperati per lavorare tante ore al giorno in maniera sfiancante e molto spesso non ricompensate abbastanza per dare un nome a queste persone. Il libro quindi è estremamente interessante ve lo consiglio perché è scritto molto bene, si legge molto bene, vi darà tanto quindi io spero veramente che deciderete di recuperarlo. Il terzo libro che ho letto a marzo è stato Storia di chi fugge e di chi resta di Elena Ferrante quindi il terzo volume dell'Amica Geniale. Ora, io è ovvio che su questo volume non farò spoiler ma se non avete letto i primi due e volete leggerli magari non so se è il caso di saltare questa mia recensione perché qualcosa scapperà fuori per forza dato che comunque questo è il seguito di una storia che ha già due libri alle spalle. Bene, allora siamo arrivati all'età adulta praticamente delle nostre protagoniste e vediamo insomma come si svolge la loro vita. In questo libro le due protagoniste, Lila ed Elena, praticamente quasi non si incrociano mai nel senso che c'è soltanto un passaggio centrale in cui le due donne si incontrano, hanno modo di parlare di scambiarsi insomma un po' di esperienze ma poi per il resto rimangono per molti anni addirittura proprio separate senza sapere niente l'una dell'altra oppure soltanto sentendosi per telefono. Questo perché? Perché Lila ha una vita decisamente diversa da quella di Elena. Lila è rimasta a Napoli all'interno delle lotte operaie, vive delle determinate esperienze nella fabbrica dove lavora, ha delle opportunità lavorative nuove una volta uscita da quella fabbrica però rimane, decide di ritrasferirsi nel rione quindi comunque rimane nel suo ambiente in quello che poi l'ha vista nascere. Elena invece no, se ne va, anzi passa sempre meno tempo a Napoli perché ormai è grande, è finanzata, ha una vita da scrittrice che l'ha vista anche diventare moderatamente famosa perché il suo libro, il suo primo libro ha avuto un grande successo ed è, poi si sposa e si trasferisce a Firenze quindi mette su famiglia, ecco questo è tutto quello che che vi dirò. Questo è quello che accade, queste due donne sono divise ma sempre legate ormai lo sapete Elena Ferrante ci tiene che questi due personaggi non si allontanino mai veramente come se un filo invisibile le collegasse e nessuno potesse, neppure la distanza, il tempo o la diversa estrazione sociale che hanno raggiunto, possa mai reciderlo. Quando parlo dei libri di Elena Ferrante, insomma dell'amica geniale, io vorrei avere ognuno di voi qui davanti a me per poterne parlare perché vi garantisco che ci sarebbero centinaia di cose da dire e non è possibile farlo in una recensione in un video perché ci si arrabbia, perché ce la prendiamo perché critichiamo i comportamenti dei vari personaggi, insomma c'è voglia di parlarne con qualcuno sembra quasi di vedere delle situazioni all'interno del nostro paese e aver voglia di spettacolare perlomeno questa è la situazione, è la sensazione che ho io. Comunque io vi dirò soltanto che per quanto mi riguarda il libro è sempre scritto bene come gli altri due, mi è piaciuto, l'ho letto bene anche se all'inizio mi sembrava un po' meno appassionante, in realtà una volta rientrata nella storia mi sono fatta prendere e ho continuato. Quello che ho sottolineato anche nella brevissima recensione che ho fatto su Instagram è che i personaggi di questo libro sono tutti negativi, sono tutti negativi, ce n'è uno che si salva e me l'ha fatto notare una di voi ed è Enzo, l'uomo che diventa praticamente il compagno di Lila. Basta, non ce n'è uno che si salvi, nel senso che abbiamo Lila che è insopportabile, è sempre stata insopportabile dal primo libro e sicuramente lo sarà fino alla fine, è Elena che è una persona senza spina dorsale che ogni cosa che fa è perché la situazione lo richiede, è perché in quell'ambiente si fa così, non è mai se stessa, noi non vediamo mai veramente Elena, tutto quello che dice è stato preventivamente pensato, programmato e deciso in base all'ambiente dove si trova, alle persone con cui è per fare bella figura e basta, non c'è niente sotto quella scorza. Quindi è una donna che è sempre in baria degli eventi e l'unica cosa che fa è cercare di compiacere il resto del mondo o di arrivare ad essere un ideale di donna che lei sia fatta ma che in realtà non le appartiene, è come un vestito troppo largo e lei cerca di adattarsi e mette in bottiture, mette in bottiture per riuscire ad entrare in quel vestito che non è fatto per lei, semplicemente, perlomeno secondo me. L'unico momento in cui è se stessa è nel suo perenne innamoramento per Nino, altro personaggio che detesto, detesto, quindi va fuori di testa quando è con Nino perché sa l'amore, fa impazzire chiunque, quindi diciamo che per come va avanti la storia di questi due personaggi sicuramente anche Nino non è uno di quelli che mi rimangono bene, ecco questo è poco ma sicuro. Poi abbiamo una serie di personaggi di contorno, insomma che una mamma, la mamma di Elena insopportabile, la sua famiglia totalmente non è coerente con niente di quello che rimproveravano a lei, vediamo una Napoli in cui come succede purtroppo ancora oggi in molte città chi è invischiato nella mala vita in realtà sia anche dalle persone comuni, dalle persone che lo circondano, estremamente rispettato, quindi insomma che ha potere indipendentemente da come lo prenda questo potere viene visto come qualcuno di importante, vediamo anche la situazione dell'Italia in quegli anni, quindi appunto le rivolte operaie, i gruppi fascisti che lottano con appunto quelli di sinistra, quindi insomma vediamo anche un'Italia di quegli anni che sicuramente influenza in qualche maniera e condiziona le vite dei vari personaggi. Comunque quello che penso è che Elena Ferrante riesce a farci leggere, appassionare ad una storia totalmente negativa, una storia dei personaggi vili, vendicativi, arroganti, oppure deboli, forti ma che usano quella forza per sopraffare gli altri, insomma veramente un insieme di personaggi dalle caratteristiche peggiori che ovvio tutti noi abbiamo pregi e difetti ma mamma mia qui non c'è una persona che abbia un pregio e però allo stesso tempo abbiamo voglia di leggere, abbiamo voglia di andare avanti, ci arrabbiamo, ce la prendiamo ma non riusciamo a staccarci dalle pagine. Io mi fermo qui perché sennò parlerei sei ore però so che molti di voi l'hanno letto quindi fatemi sapere durante il mese di aprile sicuramente leggerò l'ultimo libro perché ormai voglio finire questa tetralogia. Ultimo libro letto a marzo, non ce l'ho qui con me perché l'ho letto in ebook e perché ogni tanto pesco qualche ebook gratuito e quindi se è breve me lo leggo sul cellulare perché non ho neppure un e-reader vabbè ed è Il curioso caso di Benjamin Button di Fitzgerald. Era tanto che l'avevo nel cellulare insomma avevo questo librettino scaricato che in realtà è un racconto, non è un vero e proprio libro e ho deciso finalmente di leggerlo soprattutto perché poi ho recuperato anche il film quindi spero di vedere il film nei prossimi giorni non so se lo ricordate ma il film è con Brad Pitt e credo che abbia vinto anche alcuni Oscar tra cui Il trucco. Allora niente la storia vabbè so che nel film è stata abbastanza modificata però tendenzialmente la conosciamo tutti no? Questo Benjamin Button che nasce vecchio quindi la sua vita va al contrario quindi nasce vecchio e man mano che gli anni passano ringiovanisce sempre di più ok? Quindi vediamo come la vita di un uomo è condizionata da questa patologia tra virgolette da questa insomma da questa cosa che lo caratterizza quindi ovviamente trovarsi quando ha pochi anni di età a star bene magari seduto o muoversi con il bastone e quando invece ha magari 50 anni di età ad essere bello più impante e in salute. E come sarebbe la vita di ognuno di noi se invece che invecchiare quindi vedere la nostra salute sempre più cagionevole stare sempre peggio fosse il contrario partissimo male però andassimo avanti stando sempre meglio. E quindi niente questo è il racconto praticamente di tutti i piccoli eventi della sua vita che sono ovviamente condizionati da questo suo ringiovanire invecchiando si può dire. Comunque in realtà io penso che la riflessione che viene spontanea è questa. Allora tendenzialmente ci verrebbe da pensare che è positivo ok? Nascere vecchi perché è bello riacquistare le forze negli anni sentirsi sempre meglio ringiovanire, fare quelle belle esperienze della gioventù quando con la testa siamo abbastanza amatori per poterle capire. Quindi sicuramente potrebbe essere una bella esperienza però bisogna calarla in un contesto che lo permette ovvero un contesto in cui tutti vivono la stessa situazione. Ovviamente un mondo in cui una sola persona vive questa esperienza non può che viverla in maniera negativa perché tutti gli altri non stanno al suo passo e quindi tutte le esperienze sono falsate, sono bloccate, sono vissute male tra virgolette perché per gli altri non funziona così e quindi al mondo non siamo soli e ovviamente questo lo condiziona. E niente questo è quanto a me il libro è piaciuto, di questo librettino insomma racconta è piaciuto molto e oltretutto perlomeno per quanto è scritto all'inizio di questo ebook all'inizio non fu tanto apprezzato anzi venne considerata proprio una sciocchezza. Io invece lo trovo un esperimento letterario molto carino, molto stimolante e simpatico e quindi sicuramente insomma a breve mi guarderò anche il film perché voglia di rivederlo. E basta queste sono le letture che ho fatto nel mese di marzo, voi fatemi sapere cosa avete letto e noi ovviamente ci vediamo prestissimo promesso con un nuovo video. Ciao!